Parallelamente a questo puzzle di varie attività che sono state lanciate per il rilancio del partito, abbiamo potuto dare avvio a questi gruppi di lavoro tematici e mi fa piacere constatare che il sondaggio valuta questi gruppi di lavoro tematici in modo molto positivo e invita a rafforzarli e a continuare in questo senso. Abbiamo constatato anche incontrando molti specialisti che qualcuno interessato e specialista sul tema sanità e sicurezza sociale è molto più motivato a venire a una serata, a partecipare, a approfondire e a confrontarsi sulle possibili soluzioni sul suo tema di competenza, magari in un gruppo di una ventina, una trentina di persone piuttosto che riunirsi in un ambito per esempio di comitato cantonale dove la discussione per forza di cose non può avere lo stesso approfondimento e la stessa precisione. E' difficile gestire la discussione e individuare elaborando assieme anche delle possibili soluzioni. Vi ricordo che abbiamo sei gruppi di lavoro tematici sulla sanità, sicurezza sociale, l'ambiente, il territorio, costituzione e leggi, giustizia e diritti, formazione e cultura, economia e lavoro. E in questi sei gruppi tematici sono coinvolti da 20 alle 30 persone, quindi più di un centinaio di persone, 150 persone che sono coinvolte e aiutano il partito a elaborare delle soluzioni che poi possono sfociare in proposte, programmatiche, in atti parlamentari e quant'altro.